Il metallo è la nostra passione. Noi della Lumafer ci mettiamo tutta la nostra esperienza nella progettazione, realizzazione e montaggio di strutture in acciaio di carpenteria metallica leggera e pesante ad uso civile ed industriale. Creiamo scale di emergenza, soppalchi, capannoni, strutture per fotovoltaico e strutture portanti di vario tipo. E la nostra professionalità è garantita dalle certificazioni ISO 9001, ISO 38342 e DEN 1091. Per i tuoi lavori di carpenteria metallica, affidati ad un professionista. Lumafer, invia macchia ad Atena Lucana.